L'obiettivo è dare quegli strumenti a professionisti che spesso sono molto esperti in sanità e un po' meno in gestione di risorse umane, normative, comunicazione, quegli strumenti che permettono di svolgere al pieno il loro ruolo dirigenziale, come gestore di risorse, come persona che deve coinvolgere gli altri in un obiettivo, per il rispetto delle norme, pensiamo a quelle del lavoro, anche complicate, per l'uso delle nuove tecnologie a servizio di una sanità sempre più efficiente. Quindi l'accordo con le quattro università permette di offrire ai marchigiani, anche chi fuori delle marche e vuole intraprendere un percorso importante dentro la carriera sanitaria, di avere tutti gli strumenti necessari per farlo al meglio.